Si è svolto in prefettura un incontro sulla problematica relativa all'incremento di movimenti di cinghiali sul territorio provinciale, in particolare sul territorio di Strona. La prefettura ha preparato un breve vademecum, elaborato dai funzionari della provincia di Biella su come comportarsi nel caso di un incontro ravvicinato con il cinghiale. È importante dunque documentarsi, può essere utile informarsi sulla zona che si decide di visitare, ma è anche importante stare attenti ai segnali del terreno. Il cinghiale si muove in branco ed è piuttosto rumoroso. Se si coinvolte in un incontro ravvicinato, la prima regola è restare calmi, evitare gesti inconsulti, scappare è inutile, i cinghiali corrono più veloci di noi. E sono sempre i cinghiali comunque che tengono ad allontanarsi anticipatamente per evitare gli incontri pericolosi per loro. E se si è in compagnia del proprio cane durante una passeggiata, è bene evitare di lasciarlo scorazzare liberamente, perché i cinghiali lo identificano come un potenziale predatore. Se incontri un cinghiale ferito, non avvicinarti, l'animale è impaurito e potrebbe reagire. È consigliabile informare l'ente territoriale competente.